Sono veramente pochi i personaggi che possono vantare una fanbase compatta che ti permette di rappare veramente, ti permette di essere te stesso al 100% e di non dover competere alle stupide gare di primo, secondo, terzo, disco più venduto e tutte queste cagate di chi comunque gira attorno al trend artistico e di chi è spinto. Perché questa è un'altra verità fondamentale da tenere a bada da chi è pompato, da chi ha numeri sfasati e assurdi rispetto poi a artisti che invece li vedi, che sono amati, che sono attesi, desiderati e che girano attorno a quella che è la loro via senza stare a elemosinare da altri. Uno di questi è appunto Silent Bob, che è un personaggio che, come tutti i personaggi che hanno, diciamo, che meritano la mia stima, può piacere, può non piacere, ma non è mai in dubbio la qualità di quello che fa. E soprattutto è uno dei pochi che rappa e ha qualità testuali veramente di altissimo livello, è contemporaneo, però riesce comunque ad essere underground e vecchia scuola, perché contemporaneo è ciò che dice. E Silent Bob è fenomenale e adesso esce in featuring con Jake Lafuria, che praticamente è un po' chi era lui. Jake Lafuria è riuscito facendo il Very Pop e facendo dei testi della Madonna. Ad oggi si è un po' più confinato nell'esercizio di stile, lui stesso dice io non scrivo più improvviso e si vede, però ecco, diciamo che il Jake dei primi tempi, ricordo, quindi visto che Silent Bob dice mi sento come Jake Lafuria nel 2003 e Jake Lafuria nel 2003, nel 2004, nel 2005 si è fatto riconoscere non solo per lo stile, cioè quando entrava lui sulla strumentale, questo ancora oggi, hai proprio la sensazione di un qualcosa che scorre rapido e di raffinato, ma anche per la qualità di quello che dice. Dei testi suoi erano le poesie, anche le strofe di quello erano, devo essere sincero, ma Jake riusciva ad arrivare al nocciolo della tematica e riusciva anche a metterci quell'alone poetico che si poteva solo definire con tre parole, poesia di strada. E quindi di conseguenza io credo che per l'hip hop italiano questo venerdì esce una canzone che è importante per il panorama contemporaneo, perché qualitativamente parlando vede il vecchio e il nuovo di due personaggi che secondo me, se parliamo di doppia H, sono al top. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.